21 novembre 1974, ore 20 e 25, Mulberry Bush Pub di Birmingham. Una bomba esplode nel bar affollato. A pochi minuti di distanza esplode un altro ordigno in un pub, il Tavern in the Town. Gli attentati portano la firma dell'Ira e fanno 21 vittime. 6 persone, i 6 di Birmingham, vengono condannate. Scontano ingiustamente 16 anni di prigione prima che si scopra che non hanno nulla a che fare con le esplosioni.